Nella puntata precedente. Salve a tutti, oggi abbiamo il piacere di avere come ospite l'ingegner Marcello Spagnolo. Marcello Spagnolo è un ingegnere aeronautico che ha svolto una carriera professionale nel settore dell'aerospazio. Ricordiamo il suo incarico come signor advisor all'Agenzia Spaziale Italiana, l'ASI. Ha inoltre lavorato presso Alenia Spazio ed è professore a contratto in sistemi spaziali presso l'Università La Sapienza di Roma. e nonché esperto al tavolo tecnico del Comitato Interministeriale per le Politiche Spaziali e Auro Spaziali. È anche consigliere scientifico della rivista Limes per cui scrive ed è autore di svariate pubblicazioni. In questa intervista vorremmo partire dai temi che l'autore ha trattato in due libri, editi da Rubettino Editore. Questi due libri sono Geopolitica dell'esplorazione spaziale del 2019 e l'ultimo Capitalismo stellare del 2022. Quindi ringrazio Marcello per essere qui con noi. Grazie, grazie a voi, grazie Melsimiliano, grazie Vincenzo, grazie dell'invito. Appunto proprio sull'aspetto militare. Perché ci sono delle implicazioni importanti dovute al fatto che nuovi attori privati si stanno affacciando. Pensiamo che appunto aziende come SpaceX godono di contratti governativi e quindi sono completamente integrate in quello che chiamiamo complesso militare e industriale statunitense. In particolare il ruolo di Starlink è emerso prepotentemente durante il conflitto russo-ucraino con l'esercito ucraino che ha ampiamente utilizzato i servizi Starlink per comunicare e coordinare le proprie azioni militari e per scambiare informazioni crittografate, dati sensibili. Ciò quindi sta destando grande preoccupazione, specialmente da parte di altre potenze come russi e cinesi che hanno preparato tutta una serie di contromisure. Ora, che rischi vede nella partecipazione attiva di attori privati in questi conflitti di rilevanza internazionale? E in generale che rischi vede in questi nuovi scenari di guerre spaziali che si vanno profilando e delineando? Ecco, e questo è il terzo tema che ho trattato nel mio libro Capitalismo Stellare, cioè come questa nuova corsa allo spazio impatta. Prima abbiamo parlato dell'economia, abbiamo parlato dell'ambiente, della sostenibilità ambientale, poi c'è il tema del conflitto. Cioè, effettivamente, la guerra in Ucraina è stata un, gli americani lo chiamano un enabler, dei sistemi spaziali in una maniera simile, ma profondamente diversa, poi lo spiegherò, da quello che fu la prima guerra del Golfo nel 1991. Quelli, diciamo, della mia età si ricorderanno che in quel conflitto, molto breve, nel 91, gli americani cominciarono a usare i satelliti, GPS, comunicazioni, DSP, come ausilio alle operazioni militari. E fu un ausilio incredibile, perché, appunto, col GPS ci si poteva localizzare, geolocalizzare in mezzo al deserto, e, diciamo, i missili Patriot potevano geolocalizzarsi e navigare per intercettare gli scudi irachiani. In maniera similare, ma con contenuti diversi, io dico che la guerra in Ucraina, purtroppo, è stata un enabler dei sistemi spaziali, in questo caso quasi come i sistemi d'arma. Perché? Perché sono i sistemi spaziali entrati, i satelliti, entrati non solo come ausilio alle operazioni, ma come operazioni stesse. Cioè, lei ha citato Starlink, ma Starlink è solo la punta dell'iceberg, ci sono decine di società private che operano, satelliti privati, che forniscono servizi per la guerra in Ucraina, di intelligence, di ascolto, di ascolto elettromagnetico, di fotografia, di fotografia ottica, radar, di riconoscimento. Ce ne sono decine, ce ne sono decine di società private, le ho citate in gran parte nel mio libro, che dal 2022 a oggi stanno fatturando milioni e milioni di dollari grazie ai loro servizi. E si stanno, la Palantir che abbiamo citato prima, e si stanno costruendo una base tecnologica molto molto importante nel conflitto. Ora questo cambia un po' le carte in tavola. Perché? Perché se in un conflitto una delle parti in causa colpisce un satellite di un'altra nazione, del Ministero della Difesa di un'altra nazione, è abbastanza evidente che si tratta di un atto di guerra. Ma se colpisce un satellite di una società privata commerciale, è un atto di guerra o è un'azione, per quanto dolosa, rivolta a un privato cittadino che opera i suoi satelliti su base commerciale? Questo non è chiaro. I russi hanno detto all'Assemblea dell'ONU che loro considereranno i satelliti commerciali alla stessa stregua degli obiettivi militari. Nessuno ha fiatato più di tanto perché non c'è una, diciamo, una normativa in tal senso. Certo, gli americani hanno detto che i satelliti che sono immatricolati negli Stati Uniti sono di proprietà degli Stati Uniti, quindi sarebbe un attacco agli Stati Uniti. Però io voglio vedere se poi dopo un satellite di Elon Musk venisse attaccato direttamente, se il governo reagirebbe o meno. Cioè non c'è una prova in questo senso, è difficile, è difficile dirlo. Ecco perché russi e cinesi minacciano delle azioni laterali, chiamiamole così. L'esplosione di un ordigno nucleare nell'alta atmosfera brucierebbe tutti i satelliti, anche quelli di Elon Musk. Sarebbe un'operazione ovviamente dolosa, deleteria e contraria alle norme internazionali, però sarebbe un'operazione molto, come dire, dirompente in questo senso, no? In una situazione in cui un ecosistema spaziale è monopolizzato da decine di migliaia di satelliti di una singola persona. Sarebbe un modo per azzerare il predominio satellitare di Starlink o di Musk o degli Stati Uniti, per pensarla in termini più geopolitici. A proposito di questo, passerei ad un parallelismo. Si fa spesso il parallelismo tra diritto navale, diritto marittimo, oceani e spazio esterno. Io ho trovato una citazione del corsaro britannico Sir Walter Raley, in età elisabettiana dichiarò chi controlla i mari controlla il commercio mondiale, chi controlla il commercio mondiale possiede tutti i tesori del mondo e in verità il mondo intero. E appunto il controllo dei mari è stato il cardine della strategia anglosassone, inglese prima, americana poi, di contenimento delle potenze terrestri. Al giorno d'oggi, l'attualità, pensiamo ad esempio alla Island Chain Strategy, con cui gli Stati Uniti praticano il contenimento della Repubblica Popolare Cinese nel Pacifico. Recentemente è stato scritto un rapporto bipartisan americano che si chiama Azzerare, prevenire e costruire una strategia per vincere la competizione economica dell'America con il Partito Comunista Cinese, quindi non con la Cina, ma con il Partito Comunista Cinese, in cui è esplicitamente scritto che è necessario garantire che gli Stati Uniti siano il primo paese a stazionare in modo permanente in tutti i punti di Lagrange. Ricollegandomi alla citazione iniziale, quella del Corsaro britannico, c'è anche la citazione di Everett Dolman, che è docente di Space Strategy e autore del libro Astropolitique, che ha dichiarato «Chi controlla l'orbita bassa controlla lo spazio vicino alla Terra, chi controlla lo spazio vicino alla Terra domina la Terra, chi domina la Terra determina il destino dell'umanità», quindi è un parallelismo. Siamo quindi all'alba di un nuovo contenimento spaziale? Allora, sì, diciamo che sono molto inspirational questi parallelismi tra il mare e lo spazio, chi controlla il mare controllo lo spazio. La realtà però è questa. Effettivamente, il dominio spaziale è un dominio molto particolare. Io non amo il parallelismo, personalmente non amo il parallelismo con i mari, perché è un dominio completamente diverso. Il dominio spaziale è un dominio particolare, in cui i satelliti non vanno dove vogliono, seguono delle leggi della meccanica orbitale, quindi si può conoscere dove sono. Ci sono dei luoghi che sono privilegiati rispetto ad altri, lei ha citato i punti di Lagrange, per chi ci sta seguendo i punti di Lagrange sono dei punti nello spazio tra la Terra e la Luna, dove un satellite può stazionare in maniera più o meno stabile. E quindi sono dei punti molto importanti, perché da lì si può vedere chi arriva, chi passa, chi parte e chi va. E tanto per dirla una, nel punto di Lagrange e le due, oggi ci sono satelliti cinesi, non ci sono satelliti americani. Ma detto ciò, il controllo dello spazio, di questi punti spaziali, diventa importante proprio per quello che stiamo dicendo. Cioè, se noi pensiamo che nel futuro bisognerà stabilire degli avamposti industriali, in posizioni tra la Terra e la Luna, o anche degli avamposti industriali sulla Luna, bisognerà che ci siano delle posizioni tra Terra e Luna in grado di verificare la sicurezza di questi luoghi. Esattamente come noi oggi, diciamo, dobbiamo mandare le nostre navi nel Mar Rosso, nello stretto di Suez, perché da lì passano tutti i container e quindi dobbiamo controllare che non vengano attaccati. In maniera similare, nello spazio, siccome non si va, non si viaggia nello spazio in maniera libera, ma siccome delle orbite precise, bisognerà controllare determinati luoghi. In questo senso, diciamo, l'analogia con chi controlla lo stretto, controlla lo spazio, in questo senso l'analogia è valida. nella, diciamo, similitudine con il diritto marittimo, io non ce lo vedo, perché, ripeto, è una dimensione, è una dimensione di movimento molto diversa, però è vero che oggi, se si lascerà controllare l'orbita bassa a uno, due, tre costellazioni, non ci sarà spazio per altre. E se, in certi punti, come quelli di Lagrange, ci saranno determinati satelliti e non altri, ci si potrà trovare in una situazione in cui una nazione X che ha un certo numero di satelliti in quella postazione, dice, guarda, questa postazione è mia, non è scritta nessuna parte che è tua, ci sono arrivato prima io. e questo vale anche e soprattutto per la Luna, ma vale anche per altre posizioni orbitali, perché nel sistema Terra-Luna ci sarà bisogno di avamposti, di stazioni di rifornimento, di stazioni di centro di comando e controllo, di ausilio alla navigazione, che oggi si stanno pensando e tra vent'anni, trent'anni saranno realizzate, anche meno. anche meno. Ma occupare quelle posizioni dipenderà da chi ci arriverà prima? Allora, nel corso di questa intervista lei ha parlato di Peter Thiel, giusto un fatto di attualità, il vicepresidente, candidato vicepresidente per il partito repubblicano degli Stati Uniti, per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti, ha lavorato in una società di Peter Thiel chiamata Mitril, quindi un altro nome di origine tolkeniana, oltre alla società che lei ha citato prima, Palantir. E questo è il primo aspetto di più stringente attualità, oserei dire. del secondo è che c'è stato recentemente il lancio inaugurale del razzo Ariane 6 il 9 luglio del 2024, ma sembra che, diciamo, anche a causa dell'assenza di componenti riciclabili, l'approccio dell'Agenzia Spaziale Europea sia poco competitivo rispetto a quello di SpaceX. e lei ha parzialmente già risposto a questo parlando appunto dell'assenza di una direzione politica nei piani europei dello spazio che invece restano sotto interessi particolari delle varie nazioni. Infine, l'ultimo aspetto di attualità su cui vorrei un suo parere è il DDL Spazio che è stato approvato recentemente in sede di Consiglio dei Ministri per colmare un vuoto normativo in un settore che richiede, da tempo richiede una regolamentazione anche con riferimento all'accesso allo spazio da parte di attori privati. Ora, leggendo rapidamente questo DDL Spazio ci siamo concentrati noi sull'articolo 7 secondo cui la richiesta di autorizzazione per le attività spaziali viene negata se sussistono legami tra l'operatore da autorizzare e altri stati o territori terzi che non si conformano qui sto citando la lettera non si conformano ai principi di democrazia e di stato di diritto o che minacciano la pace o la sicurezza internazionali o sostengono organizzazioni criminali e terroristiche. Questa, se vogliamo, è una formulazione che è soggetta e suscettibile a diverse interpretazioni ma che, a mio parere, rispecchia lo stato attuale delle relazioni internazionali cioè in seguito al conflitto in Ucraina abbiamo assistito ad una riduzione dei margini di autonomia dei paesi europei che si sono ricompattati attorno all'egemone statunitense in un confronto geopolitico con Russia e Cina che sono paesi con cui i paesi europei Italia, Francia hanno avuto anche recentemente delle importanti collaborazioni. Possiamo avere un suo parere sul DDL Spazio Sì, certo però prima torno un attimo all'incipit della sua domanda per correggerla ma no bonariamente si pronuncia Peter Thiel non Peter all'americana perché Peter Thiel è nato in Germania è naturalizzato americano neozelandese ha due o tre nazionalità ma è fondamentalmente tedesco ed è sempre stato un sostenitore del partito repubblicano ed è sempre stato un diciamo un fan delle attività spaziali ha investito nella SpaceX non dimentichiamoci che era il socio di Elon Musk nella creazione di Paypal che è stata la loro creatura che gli ha consentito di fare fortuna e ha investito i suoi ricavi nella Facebook di cui è stato amministratore per 17 anni quindi Peter Thiel è un personaggio che sicuramente con diciamo con il partito repubblicano è sempre stato strettamente legato ma anche con l'amministrazione democratica perché la Palantir lavora e lavora comunque col pentagono poi la seconda parte della sua domanda parlava un po' del lanciatore Ariane 6 il lanciatore Ariane 6 è diciamo lo strumento principale per l'Europa per accedere allo spazio e quindi è molto importante che questo lancio inaugurale sia andato bene perché era in ritardo di 4 anni era in sovraccosto di oltre un miliardo di euro sarebbe stato veramente catastrofico che non fosse andato bene se non altro adesso l'Europa ha un suo strumento di accesso allo spazio che è una cosa fondamentale altrimenti non si può si può sedere a nessun tavolo negoziale o nessun tavolo geopolitico è come se uno volesse parlare di qualcosa senza avere gli strumenti per farlo se veniamo poi al decreto di legge spazio del governo italiano devo dire che diciamo questo questo DDL spazio nelle sue articoli generali tutto sommato si dice delle cose condivisibili e cioè che bisogna registrare gli operatori privati che vogliono operare bisogna operare in conformità a determinate certificazioni bisogna operare in conformità a dei criteri di sostenibilità quindi sono tutte cose in linea di principio condivisibili anche quella della diciamo con partecipazione con governi che rispettano i principi democratici anche se come ha detto lei sembra un qualcosa di molto contingente legata al fattore attuale contingente ma in realtà quello che io penso è che questo decreto sia sì utile ma per una nazione come l'Italia è diciamo un po' complicato poi da attuare io non vedo in Italia tutta questa pletora di attori privati che debbano essere regolati certificati e attuati sì magari ci può essere la necessità di normare un'attività magari se c'è adesso faccio per dire Elon Musk che vuole mettere una sua base di lancio in Italia cosa in vero poco realizzabile però se lo volesse fare allora questa legge norma determinate cose quindi la legge di per sé dice delle cose condivisibili che però dovrebbero essere poi portate a un livello europeo a un livello internazionale altrimenti rischiano di essere diciamo delle cose un po' più diciamo belletarie due aspetti voglio dire quando parlo poi di una legge europea teniamo presente che la commissione europea che in passata quella che adesso è andata via ha provato negli ultimi due anni a far passare una space law ma non c'è riuscita per divergenze politiche tra gli stati quindi adesso la palla sta alla nuova commissione di riproporre questa space law e riproporla in una modalità accettabile di compromesso perché perché il punto era proprio questo che c'è nel decreto legge nel decreto legge del governo italiano c'è scritto molto chiaramente che chi vuole fare operazioni nello spazio deve registrarsi al ministero si deve far certificare dall'agenzia deve fare una serie di procedure assolutamente normate e regolari quando andiamo a trasportare in Europa questa procedura la domanda che sorge spontanea è benissimo e chi è che certifica che è una cosa può essere lanciata o meno chi lo fa e lì mentre a livello nazionale è ovvio lo fa il ministero lo fa l'agenzia crea un'agenzia deputata a farlo e va bene tutto in Europa qui ci sono n agenzie n strategie n ambizioni quindi è un il decreto legge del governo italiano è un passo sì per carità condivisibile però se non si fa una normativa a livello internazionale europeo e poi internazionale allargato diciamo rimane quel che è sì io se posso aggiungerei che a me sembra che sia un decreto un pochino a ribasso nel senso che che prende atto dello stallo della situazione a livello europeo nel senso che come ha detto lei ci sono tutte queste agenzie spaziali europee che sono collegate ai vari governi però non c'è un'agenzia ora c'è effettivamente un'agenzia europea dello spazio EUSPAR adesso mi pare che si chiami adesso non vorrei dire ma però diciamo sembra esserci la necessità di un coordinamento molto maggiore adesso non direi una fusione perché quello mi sembrerebbe un fatto scientifico ma quantomeno un coordinamento tra queste agenzie spaziali dei singoli paesi europei viceversa mi sembra difficile che si riesca poi a incentivare quello che dovrebbe essere come diceva lei un mercato abbastanza vivace di persone e di aziende che siano poi tra l'altro tradizionalmente non molto votate a rischio e quindi sembra che sia un mercato molto ingessato e nello stesso tempo nello stesso tempo anche piuttosto burocratizzato ecco quindi mi sembra che la situazione fotografi proprio questo impasse sembra piuttosto preoccupante perché se uno fa il paragone con gli Stati Uniti hanno forse difficoltà magari a gestire tutti questi capitalisti di vettura però se non altro hanno la vocazione a rischio e quindi sviluppano situazioni soluzioni tecnologicamente avanzate mentre invece da noi sembra che le potenzialità che pur ci sono non vengano ottimizzate non c'è un processo diciamo che guardi all'efficienza e a far emergere le forze produttive più vivace più innovative ma guardi è assolutamente come dice lei ed è anche una situazione complicata nel senso che riprendiamo un po' le fila il decreto del governo italiano tutto sommato fa una legge spaziale che dà dei principi condivisibili perché nessuno può essere contrario a questi principi quanto poi essi siano applicabili nella realtà delle attività spaziali italiane questo è tutto da verificare quindi insomma vedremo poi quanto ci sarà questa applicabilità però quantomeno possiamo dire ma noi questa legge l'abbiamo fatta quindi nazioni europee seguiteci mettiamoci insieme e falliamo poi però vediamo che a livello europeo non si riesce a concretizzare una legge spaziale perché per vari motivi ma sicuramente anche perché come ha detto lei c'è un'agenzia spaziale dell'Unione Europea che si chiama EUSPA ed è basata a Praga ed è stata fondata da qualche anno non da tanto questa si chiama European Union Space Program Agency e quindi in qualche modo è chiamata a operare dei diciamo dei sistemi spaziali europei poi c'è la Commissione Europea con la sua direzione generale difesa e spazio che era diretta dal commissario francese Thierry Breton adesso vedremo chi sarà il nuovo commissario la quale faceva politica industriale e politica strategica ha aperto dei bandi di contratto per dei programmi multimiliardari ha cercato di portare all'approvazione una space law senza riuscirci cioè è stato un attore molto diciamo vivace poi c'è l'agenzia spaziale europea che dal 1975 è l'ente intergovernativo deputato alle attività spaziali in Europa ecco poi ci sono le agenzie spaziali di ogni stato membro ecco capite bene che diciamo questa governance è molto frammentata e a livello europeo è anche abbastanza burocratizzata quindi io oggi faccio fatica a trovare una strategia spaziale europea cioè se io clicco sul sul sito dell'unione europea della commissione europea e clicco strategia spaziale mi escono documenti a Iosa abbiamo strategie spaziali per tutto ma cos'è che veramente vogliamo fare non lo trovo mentre se io guardo la strategia della NASA la strategia della Roscosmos la strategia della CNSA la strategia della ISRO indiana la strategia della JAXA giapponese so che quella strategia di quell'agenzia spaziale è collegata a una politica industriale una strategia geopolitica di quel governo e quindi faranno determinate cose stanno facendo determinati sviluppi in quella direzione purtroppo oggi in Europa ma questa cosa diciamo sono vent'anni due decenni che che c'è la diciamo la confederazione non funziona non funziona più tanto bene no? e lo spazio come dico io è sempre stato un un riflesso uno specchio molto esplicito delle bellezze e delle difficoltà dell'Unione Europea perché poi come dice lei c'è una base industriale di primo ordine cioè gli europei comunque sono stati i primi che sono arrivati su una cometa hanno realizzato sonde interplanetarie eccezionali abbiamo industrie in grado di fare satelliti e lanciatori il problema è che una mancanza di chiara visione strategica di dove vuole andare l'Europa implica che le risorse vengono frammentate poi se vogliamo dirla tutta è chiaro che in Europa ci sono dei paesi come la Francia che è un paese leader di questo settore che in qualche modo spingono in una direzione più consensuale alla propria strategia l'Italia cerca di fare analogamente quello che è più consensuale una sua politica industriale destinata in industria la Germania lo fa anche lei con il peso finora della sua potenza economica finora ho detto perché ora è diverso lo scenario quindi alla fine c'erano questi due colossi franco tedesco che andavano in una direzione con l'Italia che cercava di trovare i suoi spazi i suoi compromessi e ora che diciamo le divergenze si ampliano bisognerà trovare un nuovo modus operandi vediamo che lo trovi quindi probabilmente in futuro vedremo un riassestamento dei rapporti di forza anche per quanto riguarda la politica europea dello spazio così come assistiamo ad oggi a un riassestamento dei rapporti di forza verso l'Europa orientale baltica rispetto ad esempio a un attore del tutto centrale nella politica europea fino allo scoppio del conflitto dell'Ucraina che era la Germania posso aggiungere una cosa scusate interrompo perché lei ha sollevato un punto importante i baltici o quant'altro cioè oggi noi in Europa stiamo assistendo a una nazione la Polonia che spende il 4% del PIL per le difese militari che ha avuto un prestito di 2 miliardi di dollari dagli Stati Uniti per acquistare materiale militare dagli Stati Uniti e è una nazione che sta investendo anche nello spazio cioè mentre prima la Polonia non c'era l'ultima ministeriale del 2022 ministeriale è la riunione dei ministri che finanziano l'Agenzia Spaziale Europea nel 2022 la Polonia ha messo 200 milioni di euro nel budget dell'Agenzia Spaziale Europea l'Italia ha messo 2 miliardi e mezzo per fare i confronti però poi dopo la Polonia ha investito un sacco di soldi all'Atere per esempio si è comprata dei satelliti di intelligence dalla Francia per 600 milioni di dollari di euro ha messo altri 300 milioni di euro per mettere un proprio astronauta nel corpo astronauti dell'ESA farlo addestrare e poi lanciarlo sulla stazione Spaziale con un'azienda privata cioè in futuro assisteremo a questo tipo di nazioni che investiranno pesantemente nello spazio e quindi creeranno un leverage diverso cioè se prima contavano Francia Germania e Italia e un po' Inghilterra adesso avremo altri attori e quindi si complicheranno le cose e ciò potrebbe chiaramente ulteriormente inasprire gli attuali rapporti con la Federazione Russa e con la Cina di cui si accennava appunto le DTL spazio Ma perché questi hanno strategie diverse Sì divergenti certo Sì quei paesi sono stati il fulcro della strategia di contenimento americana quindi Loro loro allora oggi se noi ci vogliamo sedere intorno al tavolo la strategia geopolitica geopolitica globale non solo dello spazio della Polonia è la stessa dell'Italia della Spagna o della Francia non lo so sarei portato a dire che è diversa la strategia geopolitica quindi questo si riverbererà anche nella politica industriale di settori come lo spazio ringrazio molto Marcello Spagnolo per questa densa intervista abbiamo toccato sbariati argomenti e spero in futuro se vuole possiamo invitare anche in futuro per commentare degli altri temi di attualità che man mano sicuramente emergeranno visto che stiamo parlando di un di un settore che viene rivoluzionato abbastanza frequentemente con grande piacere grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti